Aumenti la flebo, muovetevi. Non si agiti, procede tutto bene. Sì, sì, certo. È solo la mia coscienza che non procede bene. Colpa dell'asco. Se non avesse avuto quel brutto vizio, poteva lavorare in un ospedale. Ora sarebbe un primario. Non mi parli così. Non mi parli, non mi parli. No, non è vero! Ma che cosa volete voi? Andate via! 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 Tornate indietro! Via, via! Aiutatemi! 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 Aiutatemi nutrireo! Aiutatemi! Aiutatemi! Siete ancora voi, non è possibile No, andate via, no, 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 no I morti sono sette, ma ne moriranno ancora Noi troveremo pace soltanto dopo che tutti saranno stati puniti Avranno quello che hanno meritato Non voglio morire, non voglio morire Ciao piccoli, riposate in pace Grazie a tutti Grazie a tutti